Faccio buon rientro a Cambridge, professore. Enigma. Mi ha chiamato? È questo che fate qui. Il programma Top Secret di Bletchley. Cercate di decifrare la macchina tedesca Enigma. Cosa glielo fa pensare? È un incredibile strumento di criptazione e i tedeschi lo usano per le comunicazioni più importanti. E se gli alleati decifrassero Enigma, ecco... La guerra si farebbe molto breve. È ovvio che lavorate a questo. Ma non avete ottenuto risultati, altrimenti non rubereste i criptografi alle università. A lei io servo più di quanto lei serva a me. A me piace risolvere problemi, comandante. Enigma è il più difficile problema al mondo. No, non è difficile. È impossibile. Gli americani, i russi, i francesi, i tedeschi... Tutti ritengono Enigma indecifrabile. Bene. Mi lasci provare e avremo una risposta definitiva. Vi presento Enigma. I dettagli di qualunque attacco, di qualunque convoglio segreto e di qualunque u-boat nelle acque dell'Atlantico passano lì dentro e ne escono incomprensibili. È bellissima. È la morte in persona, signor Turing.